6 una str asterisco 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 tu si che vales subito scintille tra sabrina ferigli e luciana littizzetto è successo durante la prima puntata battute e tensione alta tu si che vales comincia subito forte lo show di canale 5 che alla prima puntata della nuova edizione ha regalato momenti di grande ilarità ma pure qualcos'altro quest'anno oltre al trio di conduzione composto da alessio sakura giulia stabile e martin castrogiovanni c'è una novità in giuria a capo come sempre sabrina ferigli poi gerry scotti maria de filippi e rudy zerbi ma al loro fianco ci sarà anche luciana littizzetto la fida spalla di fabio fazio per tanti anni a che tempo che fa subito fatto vedere che la chimica con gli altri colleghi c'è già in particolare c'è stato un momento in cui il ritorno del disturbatore giovannino ha creato una gran confusione è arrivato con il suo overboard dando immediatamente a maria l'occasione di stuzzicare sabrina invitandola a salirci sopra lei però si è rifiutata e ne è nato un siparietto maria e sabrina muso duro interviene pure luciana littizzetto qualche tempo fa a rivelare quello che succede dietro le quinte del programma era stata proprio luciana littizzetto il suo grande talento di maria ndr è quello di provocare sabrina ferilli la quale si incasterisco zà come un puma le due vanno avanti per ore sabrina è una matta matta vera fa schiattare dal ridere e anche stavolta infatti maria de filippi ha insistito per far salire sabrina ferilli sull'overboard con giovannino lei però con ancora più energia si è rifiutata no mi ammazzo ha esclamato per cercare di togliersi dall'impiccio sabrina ferilli si è allora rivolta direttamente a giovannino invitandolo a prendersela con luciana littizzetto ma perché non chiami lei luciana quest'ultima non si è fatta pregare e ha subito tirato fuori gli artigli come il suo stile ci ha abituato a conoscere ma che st asterisco onza io mi sono appena rotta una rotula il siparietto è andato avanti con giovannino che ha continuato a sfidare sabrina ferilli ma come la grande sabrina ferilli l'attrice dai mille ruoli non sa andare sull'overboard il diavoletto ha continuato a sabrina perfino con un bastone cosa che ha mandato la showgirl su tutte le furie con questi occhiali manco ci vedi ti faccio secco e lui di rimando pure io ti faccio secca pure a te insomma primo appuntamento con tu si che vale se prime scintille un altro appuntamento con tu si che vale se vuoi